Il coro, la corale Corpus Domini nasce nel 96 ufficialmente, anche se già da anni cantavano dopo la creazione della comunità, del Corpus Domini in via Gutenberg a Bolzano. Il repertorio che la corale fa è un repertorio sacro, polifonico, quindi grandi autori come Handel, Mozart, Bach, Albrecht Berger e tanti altri. Il coro ogni due anni, quindi in forma biennale, organizza un concertissimo, viene chiamato così, dove vengono invitati i cori esterni e dove si fanno principalmente canti di Natale, viene fatto nel periodo natalizio. In più è stato fondato un festival, si chiama Festival Voci dal Nord, in cui partecipano ogni anno uno o due cori islandesi. I progetti sono tanti, sempre. Siamo appena tornati da Roma per festeggiare il ventesimo anniversario della corale e quindi buon viaggio a tutti.